I risultati dell'incontro di oggi? Anche oggi siamo a Cantanissetta con il ministro Toninanni che ritorna per la decima volta in Sicilia perché c'è un percorso costante e forte per completare le nostre opere strategiche in Agrigento Cantanissetta e in Agrigento Palermo. In questo momento Toninanni sta scontando tutte le imprese costruttrici, ci sono dei tavoli tecnici al MIT perché dobbiamo veramente fare in modo che la Sicilia abbia tutto un impianto di infrastrutture che necessitiamo da anni. E finalmente c'è un ministro che se ne sta occupando in prima persona.